Il management di impianti SRR attraverso dei cartelloni dislocati in vari punti della città ha annunciato che attuerà un cambio di rotta nella pulizia delle strade e nel mantenimento delle aiuole cittadine. Ma in via Venezia questa pulizia ancora non si è vista. Mi sembra che bisogna dare il tempo ai nuovi operatori di poter lavorare e bisogna anche mettere in considerazione che il gelese, compresa la sottoscritta perché tale mi ritengo, siamo un poco sporchi, non è corretto buttare dai finestrini cicche di sigarette, pacchetti e così via. Dobbiamo dare modo agli operatori di lavorare. Non si può pulire una città sporca da anni in un minuto. Lei mi insegna che per pulire una casa ci vuole il tempo. Se pulisci sul pulito è normale, ma se pulisci sul sporco ci vuole tanto tempo. Viviamo in mezzo al caos completo, mai era stata gela così sporca. Siamo tutti disamorati da questa cosa perché poi la raccolta la fanno indifferenziata. Io la faccio, se la ritirano, però il gelese è sempre quello che butta tutto così, in faccia alle persone. Dal 1 ottobre il nuovo servizio rifiuti passerà ufficialmente da Tecra all'Inausi Impianti SRR, che ha formalizzato le assunzioni a tempo indeterminato in vista proprio della partenza del cantiere locale. Ma i problemi in città sono sempre gli stessi. Aiuole non curate, marciapiedi impraticabili e strade sporche continuano ad essere una prerogativa delle vie cittadine. All'incrocio tra la via Venezia e la via Corinto si è venuta a creare una vera e propria discarica a cielo aperto e i residenti non ne possono più. Abbiamo fatto presente più volte sul movimento civico, ma nessuna risposta, nessuno è venuto. Ci sono due villette che sono impraticabili e qui di fronte buttano pure legname, buttano tutto il materiale in erenda dei lavori fatti, si possono vedere. Non ci sono topi, scarafaggi, di tutto e di più. Non so come far presente questa situazione perché tutti i vicini qua si lamentano. Inizialmente facevamo noi lavori sulle villette come eravamo rimasti con i politici, solo che venivano dei ragazzi e dovevamo scendere direttamente con loro a situazioni poco gradevoli e allora abbiamo smesso di fare il tutto. Dentro là dentro c'è tutto distrutto, bruciato, non si può. Non c'è la scuola vicina, come poco fa facevano giocare i bambini, anche se vogliono portarli fuori dallo stabile. Non possono perché c'è una situazione degradata al massimo. Dopo la pulizia straordinaria del quartiere di Marchitella partita il 3 luglio, i dirigenti avevano garantito che avrebbero esteso la stessa attenzione agli altri quartieri della città, ma ad oggi sono rimaste solo parole al vento. Ieri mattina i residenti di Via Bengasi hanno dovuto contattare l'assessore Ivan Liardi perché l'intera strada era stata dimenticata dagli operai, che hanno attuato la raccolta dei rifiuti solo dopo il richiamo. Anche la campagna di comunicazione promessa da impianti SRR per sensibilizzare i cittadini e invitarli a una corretta raccolta differenziata con totimi in piazza e incontri nelle scuole ad oggi non risulta essere partita. L'assessore Ivan Liardi, in un'intervista telefonica, ha assicurato che, come da programmazione, entro venerdì anche la Via Venezia sarà attenzionata dagli operai delle impianti SRR.